oliviero toscani arte fiera visitatore o collezionista no soprattutto non collezionista sono contro il collezionismo dell'arte cosa che non va al collezionismo quello che non ha è arte contemporanea e non è arte moderna va bene collezionale per arricchire al bellere i tinelli ma la grande arte non va assolutamente collezionata privati non va chiusa dentro una stanza no come se io comprassi la divina commedia ma la tengo io nessuno la legge più siccome è l'arte visiva non è la musica che poi tutti possono ascoltare come uno pia mozza se porta a casa collezione a lui e gli altri no la grande arte è dove deve essere il dominio pubblico perché è cultura per tutti arte fiera si apre da un po di anni anche alla fotografia ci sono tantissime espressioni di fotografie all'interno è stato un po di polemica sul fatto che anche la fotografia che è ripetibile potesse entrare a far parte di un circuito di arte fiera qual è il suo pensiero forse la cosa più intelligente che hanno fatto per la fotografia infatti quando una fotografia non serve a niente diventa una fotografia d'arte quindi va bene mi sta spiazzando quindi va bene va bene benissimo ti ho detto quando una fotografia non serve a niente una fotografia d'arte va benissimo qui arte fiera arte fiera è importantissimo perché tutti hanno bisogno di avere qualcosa di pensare sia artistico attaccare a casa no tutti sono innamorati del proprio uomo della propria donna i propri figli lei mi ha sentito qualcuno di un padre dire mio figlio non è intelligente poi uno si domanda ma poi quando diventa adulto dovevano finire tutte queste intelligenze perché loro sono innamorati del proprio uomo l'uomo